Ciao, sono Maria Luisa, ho 31 anni e vengo dalla danza ma amo il Pilates. Ho conosciuto Uepa tramite le inserzioni online su Facebook. Ho scelto il corso di ginnastica finalizzata al benessere Pilates Network. Ho scelto questo corso perché credo fermamente che necessitiamo di capire come la ginnastica, quindi l'attività fisica, possa migliorare il benessere psicofisico dell'individuo. La cosa che mi è piaciuta maggiormente del corso è la preparazione dei docenti che hanno svolto una lezione, seppur online, molto attenta, molto minuziosa e non si sono mai risparmiati. Quindi non hanno mai affrontato la lezione con sufficienza e anzi ci hanno dato un sacco di informazioni in pochissimo tempo. Mi sentirei di consigliare i corsi Uepa ai miei amici e ai miei colleghi perché sono i corsi che ho preferito maggiormente tra tutti quelli che ho fatto per quanto riguarda la professionalità e la correttezza. Ciao a tutti, sono Maria Luisa Manzo e vi aspetto al prossimo corso Uepa. Ciao!